cari amici bentornati sul mio canale quelle immagini che vi sto per andare a far vedere non hanno bisogno di commento vi dico soltanto la località è il lago del salto un lago amato da tantissimi appassionati di pesca non solo carpisti amanti della pesca il predatore lucio un tempo patria assoluta nazionale del black bass sto parlando di 30 40 anni fa naturalmente era leggendario i bass del salto erano parte della leggenda di questo posto un lago pieno di controversie pieno di enigmi nel senso che un lago meraviglioso che non si riesce non si riesce a gestire in un modo adeguato un lago ricco di pesca sportiva che di sola pesca sportiva potrebbe tranquillamente campare e invece no invece no perché lo vedremo dopo grazie a tutti 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 i giorni di pescate cominciano a fare plumbing sondano il fondale incappano in una rete cominciano a tirarla fuori e filmano giustamente come giusto sia fatto e cominciano a scoprire che quella rete piena di pesci all'inizio sembrano carassi poi vediamo che ci sono anche black bass ci sono persici reali ci sono piccole carpe c'è scardole c'è di tutto di tutto un disastro questo avviene tra l'altro in una zona denominata campo gara fipses ed è molto grave questo perché è una zona di frega quindi i bracconieri non si accontentano vanno addirittura nella zona di frega quindi il danno è che è ancora doppio ancora maggiore ora chiaramente ci si sta muovendo ed è un'azione meritoria fatta da diverse associazioni che vado a leggere per non dimenticare nessuna il crazy car di rieti che è un club storico di car fishing con veramente tanti anni alle spalle di attività meritoria l'esd acqua e fucensi l'asd valle del salto il fishing club di rieti la fipses di rieti e il negozio di antonio di rienzo carp and co questi hanno si sono uniti finalmente hanno cominciato a parlare si è compreso quanto sia importante fare massa critica ne parlavo ieri in un live cominciare a parlare come gruppi e non come singola entità singolo gruppetto singola associazione bisogna raggrupparsi unirsi fare massa critica e utilizzare tutti gli strumenti compreso questo compresi vari social per far capire che non ne possiamo più non ne possiamo più anche perché oltre a essere soggetti a una serie di limitazioni incredibili ovunque come ci muoviamo quasi che i pescatori ricreativi siano dei delinquenti dobbiamo anche subirci il famigerato libretto delle catture ma come pretendete il libretto delle catture che dobbiamo andare a prendere nella zona centrale di Roma magari sobbarcandoci dei chilometri in macchine in mezzo al traffico con previo appuntamento dopodiché le acque vengono lasciate completamente allo smando ma c'è qualcosa che non torna ma veramente allora tutto questo va rivisto integralmente ve non voglio parlare del libretto di catture che sapete il mio pensiero a proposito è che è una stupidaggine colossale e ne ho parlato talmente tante volte di averne la nausea vorrei poter parlare di pesca ora dove sono i controlli dov'è e lo dico con rammarico quella guardia forestale che adesso sono i carabinieri forestali che una volta operavano effettivamente controllo del territorio quando erano guardia forestale poi il governo Renzi e Renzi in particolare l'hanno trasformati l'hanno inseriti all'interno del corpo dei carabinieri e probabilmente hanno perso l'efficacia spero di no credo di no voglio augurarmi di no perché ho grandissima fiducia in loro sono una parte importante dello stato ma sicuramente i controlli sono spariti e i guardia pesca federali dove sono finiti certo loro non hanno grandi strumenti sono spesso degli appassionati ecco quello che manca manca proprio questo manca il controllo del territorio ma manca il comprendere perfettamente quanto sia importante considerare il lago del salto come il lago del turano come in Abruzzo, Campotosso, Scandarello e tanti altri bacini idroelettrici un valore aggiunto enorme uno strumento da inserire nei pacchetti turistici a patto che venga tolta la pesca professionale tanto per cominciare perché è accaduto tanti anni fa che riuscimmo a bloccare per qualche tempo la pesca professionale con il risultato di rivedere pesci e pescatori nonni con i nipotini sulla riva del lago e il ristoratore a ringraziarci e io testimone in prima persona omaggiato in prima persona da un ristoratore con dei piatti di pasta gratuiti meravigliosi proprio perché quell'operazione aveva riportato la gente a riempire i ristoranti il lago veniva vissuto quindi non è una landa desolata il lago questo gli amministratori dovrebbero comprendere perfettamente e dar retta a ciò che le associazioni dicono perché le associazioni ci tengono al lago al proprio lago e vogliono che il lago venga utilizzato venga sfruttato e valorizzato per quello che è perché lago del salto tra l'altro ha una storia enorme il lago leggendario 40 anni fa per il black bass è un lago da luci ma se ci mettono le reti nelle zone di frega del luce ci ritolgono tutti come è accaduto ci tolgono le carpe è un cavolo di tutt'uno come si dice dalle mie parti quindi vanno proibiti anche queste e va operato una repressione nei confronti dei bracconieri quindi benvengo a questa legge sperando che finisca su iter camera e senato e venga promulgata veramente repressiva nei confronti dei bracconieri ma nel frattempo dobbiamo fare qualcosa e non possiamo ostacolare la presenza dei carpisti sulle sponde del lago dei pescatori appassionati di spinning o di bolognese di match fishing sulle righe le rive o sulle barchette in giro per il lago perché questi sono un deterrente contro il bracconaggio e già il lago subisce un attacco continuo e costante da parte dei cormorani e allora vogliamo continuare vogliamo distruggerlo ci rendiamo conto che abbiamo un tesoro una miniera d'oro e non siamo capaci a sfruttarla è tipico italiano questo bene io mi auguro che questa iniziativa meritoria di queste cinque associazioni più il negozio Crazy Carp e il negozio Carp & Co. riesca a ottenere il risultato se non altro di smuovere questo e tutti gli altri strumenti social che abbiamo a disposizione usiamoli in massa per far capire che ci siamo veramente stancati ci sono cose più serie del libretto delle catture totalmente inutili in un mondo in cui operiamo il catch and release detto questo il campo gara della FIPSAS è stato autorizzato nel 2018 per cinque anni spero vivamente che la federazione si stia adoperando per rinnovarlo non è notizia in merito è importante appunto continuare a tutelare questo lago è importante ragazzi continuare a denunciare tutti questi episodi filmando e continuando a filmare e fare massa critica affinché chi amministra la cosa pubblica si renda conto che deve intervenire a tutti i costi iscrivetevi al mio canale ci vediamo al prossimo appuntamento sempre qui o dove vorrete ciao